Ciao a tutti ragazzi, io sono Alterminator 9 e su questo canale se vi iscriverete, oppure se non vi iscrivete, basta che guardate i video, tratterò di Naruto e di GTA, anche di Minecraft a volte, insieme ai miei amici, farò video insieme ai miei amici di Xbox Live. Ehm, niente, guardate i miei video e se volete iscrivetevi. Ciao a tutti da Alterminator 9.